L'evento Giro d'Italia, la tappa nella Riviera dei Cedri è stata fortemente voluta proprio per dare quella visibilità ad un territorio che merita il posto in prima linea, proprio perché nella Riviera dei Cedri vi è la possibilità di percorrere delle strade che ci fanno raggiungere direttamente il Parco Nazionale del Pollino, quindi riusciamo a coniugare il mare e la montagna e tutto questo proprio per sviluppare quello che è il fenomeno del cicloturismo, cicloturismo che fa sì che possiamo affacciarci in dei mercati soprattutto del nord, nord Europa, laddove non si deve vedere la Calabria solo come mare ma anche come turismi alternativi ed è proprio questo che il cicloturismo è uno di quegli obiettivi che stiamo puntando. Grazie per la visione!